Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con questo nuovo video un po' particolare e oggi sono qui intanto nella mia pagina facebook fmarco95 in compagnia di Buldir Salve a tutti E Energy Ciao ragazzi E un'altra persona Cristian Ciao ragazzi Allora ragazzi questo video è un video per avvisarvi e per dirvi come avevate già potuto sentire anche in una puntata della serie che praticamente oltre ad aver letto anche sicuramente il post nella mia pagina domenica 18 marzo siamo a Bassano appunto ospiti del Bassano Comics e ovviamente Cristian appunto è stato lui che ci ha invitato e quindi questa sera è qui con noi per dare qualche delucidazione in più qualche informazione in più su quanto avrà domenica e quindi adesso posso dare pure la parola a lui e nel frattempo io intanto vedrò di scorrere un attimo la pagina della Tanna del Nerd dove potete andare a visitarla vi lascerò ovviamente il link in descrizione e così insomma intanto ci dice cosa troviamo cosa andiamo a fare diciamo in questa fiera in questa esposizione quindi Cristian se vuoi dire qualcosa assolutamente allora intanto grazie Marco grazie vuol dire a Energy che sono qui con noi stasera e con me grazie della bellissima accoglienza allora Bassano Comics 17 e 18 marzo con tantissime cose da vedere oltre a stand di varie cose da comprare da vedere eccetera abbiamo cosplay e tutto quello che è tutto quello che è tutto quello che riguarda l'ambito nerd da youtube a fumetti videogiochi eccetera in particolare noi abbiamo diviso quello che è un po' i contenuti fra sabato e domenica in particolare sabato che è il 17 abbiamo due eventi particolari uno con i nostri amici che sono appunto il gruppo mai più limiti faremo un workshop sul palco per vedere appunto come si realizza un'armatura e un elmo dunque molto interessante per chi vuole creare magari il suo press code così mettiamo così per il suo prossimo cosplay o per chissà magari così per divertimento e poi abbiamo degli altri amici che sono paper and plaster che abbiamo già visto nelle scorse edizioni di Bassano con Gundam e altre costruzioni però questa volta andremo a vederli fatti di carta è una cosa eccezionale siamo i primi ad averli appunto perché sono dei nostri amici che ci fanno questo workshop live e vedremo appunto la costruzione di qualsiasi cosa a grandezze anche varie fatte di carta dunque potremmo realizzare anche qualche trattore ovviamente certo così un bel fendet direi sarebbe oro realizzare e potremmo vedere anche acquisire le competenze per fare una roba del genere dunque avremo track in questo caso che è la parte di paper and plaster che si occupa della parte carta che ci insegnerà a fare perché no anche un trattore o un'asseminatrice quello che vogliamo soprattutto Mari molto interessante per gli appassionati anche di modellismo forse questa cosa qui assolutamente sì vedo molte volte ragazzi in qualche fiera qualche open day qui nelle mie zone ci sono sempre degli stand addiritti per appunto tutti quelli che hanno i modellini i trattori allora vedi quello gari morchino ma tutto fatto anche veramente bene è anche bello vedere anche quelle una passione anche quella ecco e magari chissà mettiamo così come preview chi fa il modellismo a tema di quello che ci piace appunto del mondo agricolo e io sa magari potrebbe essere uno dei prossimi eventi che vedremo in una delle nostre fiere ma penseremo oltre a questo altra cosa per chi piace smanettare con le console e con i videogiochi a cura di game time avremo appunto un'area dedicata al videogioco dunque per chi ha voglia di scatenarsi con vari videogiochi adesso comunque nella prossima settimana verranno pubblicati anche tutti i giochi che saranno disponibili delle console sul posto per giocare avremo la VR dunque la realtà virtuale dunque potremmo provare quella roba lì bello bello dunque avanti sotto a smanettare e tra sabato e domenica altra cosa che se non avete mai visto dal vivo ve lo consiglio tantissimo avremo due nostri amici Elisabetta e Federico che faranno degli esperimenti di mentalismo e numerologia e noi abbiamo visto a Padova l'anno scorso abbiamo tenuto il pubblico non so quanti erano ma tantissimi attaccati al palco durante il numero di Elisabetta e Federico perché è un non vi aggiungo altro perché non spoileriamo troppo non spoileriamo troppo assolutamente perché veramente ragazzi è qualcosa di straordinario domenica perché è già questo se pensate che sabato ci sia da fare domenica domenica veramente abbiamo il non plus ultra perché abbiamo dato penso il meglio di noi allora ospiti sul palco tutto il team di F e Marco 95 adesso Marco chi è che abbiamo quali sicuro con abbiamo sicuramente al 100% io ovviamente entro capo della baracca capo della baracca Bull Deer, Energy e DVD che adesso non è qui presente purtroppo gli altri collaboratori non possono venire per motivi personali o problemi di distanza ma sicuramente potranno seguire anche la diretta mi sembra ci sia una live sia su Facebook che su Youtube esatto e quindi ragazzi anche chi di voi magari è distante e non riesce a venire comunque potrà seguire il tutto e magari tenersi pronto per tempo magari per l'anno prossimo e scriverlo già sul calendario del 2019 che magari in marzo deve tenersi libero esatto cosa ci sarà con voi come nel nostro nel nostro percorso di fiere noi cerchiamo di dare voce e cercare di fare un percorso con i protagonisti un po' del mondo di Youtube e di Facebook non sempre i soliti noti che fanno sempre le stesse cose ma cercare di avere sul palco e conversare con loro chi ha un contenuto particolare noi abbiamo fatto la prima edizione di questo percorso a Bassano dell'anno scorso abbiamo avuto alcuni Youtuber che ci hanno parlato non solo di agricoltura ma anche di dietro le quinte di Youtube con Marco e gli altri andremo a affrontare cosa c'è dietro un video di Marco della serie delle varie serie che fa e soprattutto del rapporto con il team che è una cosa estremamente importante da capire per cercare di apprendere un po' le tecniche e anche chi vuole intraprendere la carriera dello Youtuber può avere anche qualche informazione in più qualcosa in più per vedere un po' quello che c'è dietro lo schermo del video perché mi conta far video ma dopo dietro in realtà c'è molto altro assolutamente sì e altre due cose importanti di domenica avremo il gruppo Star Trek Italia che ci viene a trovare per la prima volta portando appunto il mondo di fantascienza appunto di Star Trek avremo il nostro altro youtuber che è d'Oregon che sarà con noi durante tutta la giornata avremo vari scrittori avremo illustratori fantasy e non torneo di Yu-Gi-Oh sempre a cura di Game Time e poi che invito tutti se non l'avete mai vista di restare appunto dalle 3-3 e mezza fino alla sera la gara cosplay è lì molto interessante e non so ma forse potremo partecipare anche noi ma non vorrei dire spoilerare cose che magari si vedrà tutta la mattina stessa appunto quindi assolutamente stiate presenti se non potete venire sabato sapete che almeno domenica potete trovare noi altri youtuber come avete potuto sentire e appunto discutere del più del meno di quello che è youtube beh noi siamo l'ultima informazione l'area self esclusiva appunto di TNO avremo 5 tavoli vicino all'area palco dove i nostri ospiti dove gli intervenuti diciamo che si possono sedere disegnare con Wokko che è appunto il nostro conduttore dell'area self poi con Marco e gli altri vi potete appunto sedere in quest'area self e conversare di vari argomenti oppure approfondire qualche tematica trattata da noi durante il giorno con gli scrittori appunto con il gruppo di Marco con il gruppo Star Trek Italia fare due chiacchiere a tu per tu esatto modo tranquillamente e soprattutto come hai detto tu Marco tranquillamente cioè prendersi un attimo e conversare seduti in tutta tranquillità appunto cercare di passare un momento di tranquillità in sera questo è molto importante bene penso ragazzi sia stato detto praticamente tutto nel frattempo avete visto ho fatto scorrere così un po' le pagine abbiamo scritto ho scritto anche una quella che era come dire la storia di come è nato il canale FMarco 95 e quello di Energy Bull Deer e DVD e quindi sicuramente è molto veramente molto interessante andatela a leggere perché appunto tratta tutta la storia da quando ho aperto il canale dal 2011 fino ad oggi vabbè ragazzi ci vediamo domenica 18 mi raccomando vi aspettiamo assolutamente e ringrazio Cristian per l'invito perché altrimenti penso che non sapevo neanche l'istezza della fiera nel senso di l'avevo sentito parlare ma non ho mai dato interesse e invece andando a vedere i contenuti ritengo una fiera molto interessante soprattutto per chi piace computer gaming fumetti e tutto quello che è il mondo dei giochi e non solo perché parlerà anche di vita reale bene direi che anche per questo video è tutto ringrazio appunto ancora Cristian grazie mille grazie a presto bene commentate iscrivetevi lasciate un bel like mi raccomando continuate a seguirmi ciao a tutti e alla prossima ciao 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 Grazie a tutti